Ruggero Bellini dico a tempi da record ma quasi si riparte con una filiera praticamente completa un grande lavoro quest'estate con la collaborazione con la cabassi union carpi si col presidente alla fine della stagione passata ci siamo un attimo sentiti abbiamo detto che era venuto il momento come da accordi presi nel 2021 l'atto della costituzione dell'athletic carpi era arrivato il momento di fare questo passo che prevedeva già da allora entro il triennio la ripostituzione del settore giovanile del carpi e quindi con molto entusiasmo ma anche con un impegno economico è organizzativo consistente abbiamo deciso di fare questo passo e assieme anche a un organigramma più corposo dove ha trovato posto Gianni Pellacani che è responsabile dell'area tecnica e Stefano sul caldo che farà da direttore sportivo ottimo